Lettura, Vangelo e Commento Davide li chiese, da dove vieni? Rispose, sono fuggito dal campo di Israele. Davide li domandò, come sono andate le cose? Su, dammi notizie. Rispose, è successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia, molti del popolo sono caduti e sono morti, anche Saul e suo figlio Gionatà sono morti. Davide afferrò le sue vesti e le stracciò, così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, piansero e digiunarono fino a sera per Saul e Gionatà, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti di spada. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Gionatà. Il tuo vanto, Israele. Sulle tue alture giace trafitto. Come sono caduti gli eroi? O Saul e Gionatà, amabili e gentili. Ne in vita, ne in morte furono divisi. Erano più veloci delle aquile. Più forti dei leoni. Figlie di Israele, piangete su Saul. Che con delizia vi rivestiva di porpora. Che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Come son caduti gli eroi? In mezzo alla battaglia? Gionatà, sulle tue alture trafitto. Una grande pena ho per te. Fratello mio, Gionatà. Tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa. Più che amore di donna. Come sono caduti gli eroi? Sono perite le armi? Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo Ciao a tutti e che Dio vi benedica e ci benedica per poter comprendere qui, adesso, questo passo del Vangelo. Un Vangelo di Marco molto breve, dove indica la stranezza della santità. Come in molti passi del Vangelo, Gesù è sempre in movimento, un movimento che sana e guarisce. Qui entra in una casa e si raduna così tanta folla che non potevano neanche mangiare. È interessante poter ragionare su due aspetti. Il primo è quello di come i familiari vedono Gesù perché lo ritengono fuori di sé. E l'altra parte è l'esigenza che Gesù percepisce di questa folla che è malata e bisognosa di guarire. Si compie quindi ancora una volta quell'antico proverbio che dice un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Quindi, qual è il messaggio oggi per noi? È un messaggio che ci invita a guardarci intorno. Quante persone vivono accanto a noi che abbiamo a portata di mano e possono davvero essere luce per la nostra vita. E spesso, invece, non le consideriamo nemmeno. Anzi, e noi siamo luce per gli altri? Per imparare dobbiamo guardare l'integrità di Cristo. Una integrità che ci fa comprendere le cose quando le patiamo. Cioè, quando viviamo noi stessi quella situazione. Ecco perché Gesù ci mette in condizione di vivere quell'evento sgradevole cosicché possiamo guardare negli occhi il prossimo e dirgli io ti capisco e portare così la speranza nella vita degli altri. L'altro aspetto da cogliere poi è quest'esigenza forte che va oltre il mangiare e che spinge Gesù a muoversi per curare queste persone. È un'esigenza che cresce dentro di noi con il crescere della confidenza con Gesù. Una relazione che ci spinge a essere operosi e a guardare il prossimo con lo stesso sguardo di Gesù. Dobbiamo imparare da Maria che lo seguì sempre fedelmente e riuscì a tenere lo sguardo fisso sul cuore di Gesù e sul suo mistero seguendolo sempre in ogni momento. Rivolgiamoci quindi a Maria Madre Nostra quando molte cose della nostra giornata non le riusciamo a comprendere fino in fondo. Se questo video ti è stato utile con poco puoi sostenere questo canale Scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele